perché non riesco a dimenticare il mio ex ti spiego tutto allora molte persone si lamentano che non riescono a dimenticare l'ex si lamentano che non riescono a uscire fuori da situazioni in cui vorrebbero essere libere vorrebbero poter diciamo essere tranquilli non essere tormentati dal pensiero dell'ex magari l'ex che se n'è andato l'ex che diciamo non era disponibile e invece non ci riescono invece come se fossero diciamo vittima di un pensiero ossessivo che continua a manifestarsi e quindi come dimenticare velocemente il tuo ex come smettere di pensare al tuo ex andare avanti tra l'altro paradossalmente per poter riconquistare qualcuno è necessario riuscire a eliminarlo dalla tua testa per prima cosa sembra strano sembra paradossale ma è così dopo una rottura il tuo cervello cercherà rassicurazioni e la maggior parte delle persone resta bloccata sul comportamento dell'ex all'inizio della relazione il che accentua diciamo così la sensazione di incomprensione dopo separazione e quindi si inizia a spesso a rimuginare a pensare ma perché mi ha lasciato quindi si tendono diciamo così a dimenticare anche tutte le cose negative che ci sono state e paradossalmente ci si focalizza sulle cose tra virgolette che potremmo definire positive cioè le sensazioni belle vissute con l'ex dimenticando invece tutte le notevoli situazioni in cui invece con l'ex di fatto faceva una vita di merda e questo devi tenerlo presente un fatto molto importante un fatto fondamentale se vuoi imparare a dimenticare l'ex devi essere consapevole che non puoi stare a rimuginare per dimenticare definitivamente l'ex intanto poi cerchiamo di capire cosa vuol dire dimenticare non vuol dire dimentico in sé la persona ma dimentico il carico emotivo poi ti darò anche uno strumento rapido affinché questo avvenga allora è importante rendersi conto che le cose sono cambiate intanto ed è importante rendersi conto che comunque esistono due tipologie di tra virgolette ricordi un ricordo dato dalle dagli eventi diciamo esperienziali quindi il fatto che tu sei stata con l'ex questo teoricamente te lo ricorderai non dico per sempre ma per una buona parte del tempo non è che puoi dimenticare qualcosa così tanto per perché di solito le cose si ricordano restano impresse cioè poi dimentichiamo anche delle cose ma l'importante è che perdi il carico emotivo pensa non so a una storia che avevi che ne so dieci anni fa magari te la ricordi per carità cioè anzi te la ricorderai sicuramente se non ti hanno lobotomizzato te la ricorderai ma non ci sarà più carico emotivo non avrai più sofferenza perché romani quel simbolo è destituito che cos'è un simbolo un simbolo è tutto quello che ci coinvolge attraverso il piacere attraverso la sofferenza cioè un simbolo è quello che ancora è carico che ci dà emozioni quando un simbolo muore diciamo così non è che ti ridimentichi dimentichi la persona ma sicuramente quella persona non è più un simbolo perché non veicola più emozioni non ti veicola più emozioni e quindi dopo diciamo la rottura invece cosa succede che il nostro cervello cercherà le assicurazioni e la maggior parte delle persone resta bloccata ancora sul pensiero dell'ex e quindi è come se questo ex anche se non c'è più continuasse ad alimentarti di emozioni soltanto non te l'alimenta più con la presenza ma te l'alimenta con l'assenza cioè tu ti nutri di del fatto che non c'è più del fatto che soffri alimenti questo fatto che soffri con i tuoi pensieri il pensiero diventa quella parte che tu non riesci per controllare diventa ossessivo ma perché accade questo perché accade perché diciamo tu continua ad alimentare quel pensiero perché la tua parte emotiva non riceve altre fonti di approvigionamento emozionale quindi resta agganciata a quello che riceve non potendosi nutrire della positività si nutre della negatività cioè dell'assenza dell'abbandono del sentirsi rifiutati dalla disistima dei sensi di colpa e questi diventano tutte fonti di approvigionamento emotivo quindi è necessario invece trovare un'energia positiva per tra virgolette dimenticare il tuo ex e la rottura cioè dimenticare dimenticarlo da un punto di vista emozionale la prima azione da intraprendere è intanto quella di non alimentare con i pensieri perché se tu alimenti con i pensieri alimenterai rimpianti alimenterai il pentimento per rimpianti cioè penserai di non aver fatto tutto quello che avresti dovuto fare oppure alimenterai di rimorsi cioè penserai di aver fatto delle cose che non avresti dovuto fare oppure ancora ti alimenterai di rabbia e rancori cioè penserai di diciamo aver fatto delle cose che ti hanno portato male e quindi avrai rabbia verso te stessa verso te stesso quindi la prima cosa da fare è diciamo è darti nuove emozioni impara quindi a non alimentare con pensieri quindi quando ti vengono dei pensieri dirottoli da altre parti ma soprattutto utilizza questa energia per darti nuove emozioni cosa vuol dire darsi nuove emozioni vuol dire che devi anche inizialmente auto penalizzarti decidi deliberatamente ad esempio 10 minuti al giorno di darti le emozioni di piangere perché il tuo ex è andato 10 minuti al giorno ma decidi tu quando farlo come perché ti metti davanti una fotografia la guardi chiudi gli occhi le immagini e piangi ti dai emozioni ma è diversa la cosa perché sarà la tua parte emotiva che decide deliberatamente di darsi delle emozioni quindi inizia a caricarti emotivamente poi quindi si crea un'alleanza la tua parte logica inizia a fidarsi della tua parte emotiva poi inizierai a darti emozioni facendo altre cose facendo coltivando le tue passioni uscendo portando avanti un progetto anche un progetto logico e razionale mi do emozioni cercando di avere più soldi mi do emozioni cercando di avere un lavoro migliore un'emozione cercando insomma impegnerai le tue energie in qualcosa di positivo quindi questo lavoro tra virgolette quotidiano farà sì che la tua parte emotiva inizi piano piano ad approvvigionarsi di emozioni da altre parti e quindi siccome dall'altra per quanto riguarda il tuo ex le hai chiuso il serbatoio perché non non alimenterai di pensieri non farai crescere questo simbolo questo significa che di fatto diciamo tu praticamente avrai dei grossi vantaggi da questo punto di vista avrai il vantaggio che potrai ottenere dei risultati importanti potrai ottenere dei risultati estremamente positivi potrai ottenere il risultato di raggiungere diciamo così una nuova consapevolezza e quindi piano piano ma piano piano ci va qualche settimana ti dimenticherai completamente emotivamente del tuo ex e la tua parte emotiva si approvvigionerà di emozioni provenienti da altre parti per cui queste sono le azioni che devi fare sono le azioni che devi portare avanti se vuoi dimenticare rapidamente ripeto massimo tre settimane dimenticare completamente il tuo ex poi se il tuo ex tornerà tu non sentirai neanche più l'esigenza se vorrai tenertelo te lo terrai ma nel 99% dei casi non te ne fregherà più assolutamente nulla e quindi guarderai oltre la tua vita sarà sicuramente una vita più positiva sarà sicuramente una vita migliore sarà sicuramente una vita dove potrai viverti goderti diciamo così nuove emozioni nuove situazioni senza soffrire e stando bene per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like condividilo con i tuoi amici iscriviti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e ti ricordo che se vuoi fare una piccola donazione al canale basta che vai sotto nel nel video c'è un cuoricino e clicca lì e puoi fare una piccola offerta anche per simpatia anche semplicemente di un caffè ti ricordo inoltre di seguirmi sulla pagina instagram massimo terramasco ufficiale di seguirmi su tik tok e e su tutti i miei canali youtube tra cui il nuovissimo liberty dei narcisisti con massimo terramasco ti ricordo inoltre che sul canale è possibile abbonarsi abbonarsi è facile basta andare nella home page tastina abbonati che sta vicino al tastino iscriviti se non lo vedi con l'app del cellulare vai con il computer e poi selezioni l'abbonamento che preferisci